Qualche volta mi piace ripensare alla magia che avevano i viali del monte. Più mi ci perdo, più mi convinco che ricordare come erano non è troppo diverso dal desiderare che rimangano così. Immutati, ma sempre differenti, pronti a rinnovarsi, anzi a crescere, proprio come noi. Cercando di trasformare il nostro presente nel futuro che vorremmo. Hai visto quante novità al Conade di Montecchio? Ampi ambienti completamente ristrutturati dove puoi trovare la pulizia e l'igiene di sempre in ogni reparto. Sì, bellissimo! Ormai è il mio punto di riferimento. Trovo sempre prodotti di qualità del nostro territorio molto convenienti, per non parlare della grande professionalità del personale. E ti ricordo che al Conade di Montecchio c'è un ampio parcheggio scoperto e coperto. Noi andiamo al Conade di Montecchio! Da più di un secolo sul territorio, macchini ceramiche è sinonimo di professionalità e consulenza specializzata nella vendita di materiali edili, pavimenti rivestimenti, parquet, ceramiche ed arredo bagno delle migliori marche. Ogni giorno troviamo la migliore soluzione per ogni vostra esigenza. La nostra disponibilità, competenza e servizio non hanno prezzo. Laura e Marco ti aspettano presso lo showroom a Rio Salso di Tavuglia. Macchini ceramiche, sempre al vostro servizio. Buonasera a tutti, cari amici di Insieme a Canestro e benvenuti alla quindicesima puntata della nostra trasmissione dove ci occupiamo, come sapete, della nostra amata VL che ci fa tanto soffrire ma di cui vogliamo comunque sempre parlare, discutere e anche cercare di capire meglio cosa sta succedendo. Come sempre potete seguirci in diretta sul canale 80 di Rossini TV, visibile in tutta la regione, sulla nostra pagina Facebook, ovunque nel mondo, poi anche in streaming, sulla nostra app che vi invitiamo a scaricare e infine sul sito internet di Rossini TV. Grazie come sempre agli sponsor che sostengono Insieme a Canestro sono Conad Montecchio, Macchini ceramiche e Banca di Pesaro e passo a presentarvi gli ospiti di questa sera. Non abbiamo ospiti da parte della VL che ha preferito rimanere in una situazione di concentrazione, di silenzio, speriamo che serva. Però abbiamo due ospiti con cui sarà bello parlare di pallacanestro e soprattutto abbiamo portato un guerriero perché i giocatori si ricordino cosa serve quando si deve lottare per la salvezza. Benvenuto Peppe Ponzoni. Buonasera, buonasera a tutti. Lo ricorderete, ex giocatore della VL degli anni d'oro, un giocatore che sapeva cosa voleva dire la parola grinta e questa sera ne parleremo diffusamente. E poi abbiamo ricominciato il giro dei nostri colleghi giornalisti e naturalmente avendo inaugurato Insieme a Canestro la prima puntata è passato del tempo e vorremmo sapere da Michele Zavagnini come sono cambiate le cose secondo la sua visione. Benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. Beh, sono cambiate in modo... Anzi, ti ringrazio per questo invito in una settimana anche tranquilla. Facile, vero? Così facile, proprio serena e gioiosa. E sono cambiate in tanti modi, soprattutto perché pensavamo di trovare la VL un po' più in alto. Io nella graduatoria che tu mi avevi chiesto l'avevo messa all'ottavo posto. Bravo Michele, fiducioso, ma mi sa che ormai è dura, vero? Aspetta, mai dire mai. Però insomma sono cambiate in tanti modi, sono cambiate allenatori, giocatori, evidentemente retaggio di alcune scelte non proprio azzeccatissime, ma questo ormai la gente lo sa tutta. È cambiato, è cambiato nel senso che sta andando abbastanza male questa stagione, però ancora ci sono 12 partite. Certo, ne parleremo. 12 partite, sì, ancora si può fare tutto, anche con un po' di fortuna, con un po' di sostegno anche da parte della città. Insomma, è un momento sicuramente difficile, ma potremo uscirne. Primo assist per Giovanni Zidda, anche quest'anno, come sapete, è lui a indicarvi come mettervi in contatto con noi per porre domande, rispondere al contest che lanceremo fra poco e che per questa puntata e anche per la prossima non mette in palio biglietti, visto che la prossima partita casalinga è lontanissima, si giocherà alla Vitrifrigo Arena il 3 di marzo, ma mette in palio una sciarpa griffata WL a chi risponderà per primo. Vai Giovanni. Buonasera, buonasera a tutti gli ospiti in studio, buonasera ai telespettatori. Come sempre vi ricordo il numero WhatsApp 370-366-7210. Oppure potete, come sempre, commentare nella diretta Facebook di Rossini TV. Passiamo subito al contest di oggi, che, quindi, come ha detto Elisabetta, offrirà una sciarpa griffata WL Pesaro 2024 a chi risponderà per primo a questa domanda. Quante presenze ha collezionato il nostro ospite Peppe Ponzoni nella Scavolini e quale trofeo ha conquistato in maglia bianco-rossa? Vi aspettiamo, numerosi, a mandare risposte. E quindi, ricordo, la conferenza stampa di domani alle ore 11 di Meo Sacchetti, live sui social della WL. È una domanda alla quale non so nemmeno se Peppe la sai di preciso. E non puoi rispondere, mi raccomando. Ma lo sai, almeno il trofeo che hai vinto lo sai. Posso mancare qualche ora, potrà mancare. Alle ore, con il Dio, con il Dio, con il Dio. Era più facile, se chiedemmo, quanto ne aveva fatto io, perché era zero. Peppe giocava con il mitico numero 7. Tra l'altro, il mio numero preferito, cioè, mi piace come, proprio graficamente. Quindi, siccome mi piaceva come giocatore, aveva anche il numero giusto. Gran lottatore. Beh, un numero primo, per cui è un numero sicuramente efficace, molto forte. Ragazzi, allora, andiamo, intanto guardate questa bella foto di Peppe. Dietro c'è Mauro Procaccini. A 16 anni. Procaccini. Siamo sul campo di Milano, quindi potrebbe anche essere lo spareggio salvezza, sai. Può essere lo spareggione con lo supergamestre, questo? Può essere. Sì, sì, può essere. Quando tu ti accartocciasti sul pallone, dopo che Barker aveva sbagliato il tiro. E qua, invece, probabilmente in lunetta, ti stai concentrando per il tiro libero. A fianco, un giocatore della Virtus, faccio fatica onestamente a riconoscere, ma forse potrebbe essere Freddy. Quindi è un giocatore anche WL. Sì, dopo sì. Potrebbe essere Freddy, col 4 potrebbe essere lui, sì. Bene, allora, andiamo... Parliamo del mezzozoico, praticamente. Eh, ma qui ormai noi praticamente... Non vogliamo invecchiare Beppe. No, no, adesso lì ci ha messo il colore, ma eri in bianco e nero, io mi ricordo. Tu eri in bianco e nero, praticamente. Eri in bianco e nero, sì. Allora adesso andiamo a vedere invece un po' di immagini più recenti. Andrea, se puoi mettere in onda gli highlight di WL Brindisi, questa partita che ci ha fatto veramente soffrire tantissimo. Qui Ford, che aveva cominciato alla grande, io, devo dire la verità, mi era un po' caricata, perché siccome è Quincy Ford, che di solito è abbastanza dormiente, aveva buttato queste tre bombe una dietro l'altra, ha detto, beh, se lui fa 3 su 3 così in apertura vuol dire che siamo carichi, andiamo. Invece poi ci siamo spenti tutti. Quindi Michele, coinvolgo prima te, chi si aspettava uno spareggio punto a punto è rimasto spiazzato. Brindisi ha affrontato la partita con lo spirito giusto ed è riuscito a far valere le sue qualità, mentre Pesaro si è spenta piano piano. A questo punto, secondo te, è una questione più atletica. Fisica tecnica, mentale? Quanto dura la trasmissione, ce la facciamo? No, perché gli elementi sono tutti quelli che hai citato. Conta molto sicuramente un po' la forma fisica, perché c'è qualcuno che non è a 100, sicuro. Però l'aspetto mentale vuol dire, sai, quanto vieni da 5 sconfitte consecutive, ti si ammoscia tutto, per cui fatichi anche ad entrare nel ritmo partita. Si vede dalle facce dei giocatori, io, parecchi giocatori, Perché tu sei sotto, no? Sono sotto, li vedo bene, soprattutto gli italiani, nella fattispecie Tambone e Mazzola, che sono solitamente i trascinatori del gruppo, hanno sempre facce positive, grinta, tigna, eccetera. Li vedo con i volti spenti da almeno 5-6 partite e questo sicuramente non aiuta. L'arrivo di Meo Sacchetti sicuramente ha cambiato anche un po' di gerarchie. Abbiamo visto nel secondo tempo Totteno non ha giocato per niente. Mochevicio se ne è. Mochevicio se ne è, perché io feci una domanda a quanto arrivò il coach Meo Sacchetti, gli ho detto, giocheranno mai assieme Totteno? Che vici, che era una domanda classica che io facevo tutte le volte a Buscaglia. Lui ha detto, assieme, ha detto, io col pivot spesso non gioco per niente, per cui potrebbero non giocare. Se fosse per me giocherei senza lunghi. Giocherei senza lunghi. Infatti nel secondo tempo ha giocato Ford, che è un 4, ha giocato pivot, assieme a Mazzola. Quindi probabilmente Mochevicio a questo punto è abbastanza inutile con la presenza di Meo Sacchetti. E secondo me anche con Totteno ci sono un po' di storie tese, l'impressione. Aveva già cominciato con Buscaglia Totteno. Con Meo secondo me sta continuando su questo piano. Quindi i problemi sono molteplici? Molteplici, di varia natura. Poi nel basket, come nello sport, se non giochi sereno, in forma fisica al 100%, con la testa tranquilla, fatichi. Il canestro diventa piccolissimo, diventa 20 cm di diametro. E la palla è 40 e passa. Senti, Peppe, tu hai giocato tante partite col coltello fra i denti, dimostrando che a volte il carattere e la cattiveria agonistica possono anche sopperire a qualche limite tecnico. Anche se tu comunque avevi una buona tecnica, ma il tuo carattere veramente tante volte ti ha fatto giocare delle partite oltre le tue possibilità. Come vedi i nostri ragazzi da questo punto di vista? In cosa mancano? Sicuramente, come diceva adesso, la grinta, la determinazione, quindi è un fatto di testa. È un fatto di applicazione, è un fatto di allenamento. Non è che in campo non inventi niente. Io penso che loro hanno 3, 4, 5 allenatori. Devo vedere la settimana prima chi vanno a incontrare, i difetti, i pregi di ognuno dei giocatori. Quando vanno al video, perlomeno quello che succedeva a me, io vedevo chi dovevo marcare, se andava a destra, andava a sinistra, se era grintoso, se gli mettevo le mani addosso, lo potevo mettere di qua. E questo è quello che deve fare un giocatore quando è lì. La pre-preparazione alla partita. Tutto questo poi va messo in campo, quindi durante l'allenamento, con le istruzioni dell'allenatore dove indica le varie anomalie da poter portare per mettere in difficoltà l'avversario, quindi vanno sia singolarmente che di gruppo impostate. E questo purtroppo non c'è. Io vedo che anche domenica sono entrati, Brindisi è entrata con la faccia giusta e ha messo subito le mani addosso, aggressivi. E noi ci siamo seduti. Ma questo l'avevo già visto con Varese e l'avevo già visto con Sassari. Sassari dove aveva queste due guardie possenti che ci mettevano le mani addosso e noi lì ci siamo sempre seduti. Tu prima mi hai detto una cosa, prima di cominciare la trasmissione, che mi ha colpito. Cioè, in casa non si può permettere di far comandare gli avversari dal primo minuto? No, sì. Mentalmente. Questa è la prima cosa di un giocatore. Siamo in casa, siamo davanti al pubblico. Loro ci devono guadagnare se vogliono vincere. In qualsiasi modo. Io ho un avversario davanti, cercherò di mettere in difficoltà. Se non riesco, lo meno. In qualche modo, comunque, uscirò per cinque falli. Ma questa è l'impronta che devi dare in casa. Lo devi mettere in difficoltà, gli devi far calarla. Poi, col pubblico che abbiamo noi, che se vedono questi ragazzi che si buttano, recuperano. Io, devo dire, contro Sassari, che eravamo sotto di 18, siamo arrivati a 4-6 con una zona adeguata, dove tutti, perlomeno, avevano un certo equilibrio e abbiamo recuperato i suoi altri 4. Poi, a tre minuti, siamo ritornati a uomo. Jackerson ha fatto due entrate con fallo. Siamo andati sotto di 10. Ecco, anche qui, cioè, bisogna, secondo me, questa squadra dargli degli input e dei punti fissi, dove tutti ci devono credere e tutti devono lottare per portare avanti la carrozza. E questa non la vedo. Però, senza difesa, non si va lontano. La difesa, io vedo anche Tambone, con Cenciarini, che ci danno da fare. Se vengono battuti, l'avversario va a canestro, non c'è un aiuto, non c'è uno che uno lo vede a Fano, l'altro lo vede a Montecchio. Cioè, io a volte dico, ma giocano insieme, si allenano. Cioè, la preoccupazione è questa, perché tu dici, faccio 0 su 10, però tu hai un fondamentale dietro di 10. Sì, però gli altri gli faccio fare 0 su 11. Sembrano un po' slegati? Secondo me sì, sono slegati e mentalmente, secondo me, non sono carichi. Non sono… perché poi è una squadra anche che è difficile dargli un'identità, per me. Non è veloce, non è aggressiva, non è rocciosa. Quindi dici, adesso impongo il mio fisico, poi fai il canestro da fuori, bene, vinci la partita. Quindi non andiamo in velocità, quindi manca parecchie cose per poter dire… Quindi dici, non vedo un punto di forza. Esatto. Al momento non vedo un punto di forza. Allora, i primi due mesi ho visto una squadra pimpante. Devo dire che riuscivano anche a rubare qualche contropiede. Adesso affrontano tutte 5 contro 5. È difficile. È difficile perché poi ti fa pensare andare lì 5 contro 5. e arriva che poi devi fare un tiro da 3 con l'uomo d'osso, eccetera, eccetera. Senti Beppe, dal punto di vista… Tu hai fatto delle notazioni, secondo me, perfette dal punto di vista tecnico e di mentalità. Io vedo, perché li vedo da vicinissimo, delle differenze fisiche e un gap fisico con praticamente tutti gli avversari. Cioè io vedo delle squadre muscolari, potenti, che nessuno dei giocatori VL riesce a replicare e a tenere. Cioè, se pensi a quello che è successo nelle ultime partite, si è visto proprio un gap fisico clamoroso e quindi probabilmente è stata costruita forse un pelo leggera come squadra. È un pelo leggera, ma quando tu c'è una squadra con un pelo leggera cosa fai? La metti sulla velocità, la metti sull'aggressività, gli dai… non c'è vibrazione. Non ti fai prendere praticamente. Esatto, quindi devi impostare la difesa in un certo modo per poi correre, rimbalzi e poi correre. Io dall'inizio non l'ho mai visto questo. Ho visto… Anche perché è rimbalzo il nostro tallone d'Achille. Tutte le volte noi concediamo troppi rimbalzi offensivi all'avversario. Allora, è bene, ottobre, ma adesso no. Cioè, ti devi allenare e dici bene, adesso la palla deve cadere per terra. Chi tira la palla? Quindi tutti devono tagliare fuori. Non tagliamo fuori? Ma io penso che nel 1938 hanno inventato i suicidi. Che io quando c'era… Spiega cosa sono perché magari qualcuno non lo sa, dice come… Dopo due o tre volte che tu non fai una certa cosa o comunque non c'è un gruppo attivo e ti metti e corri. Corri in tempo, non è che vai blando. E questo Nicoli, c'era un maestro, dice vabbè, io vi dico, vi dico, vi dico. Però dopo… Cioè, voglio dire… Cioè, se non stavate alle regole, lui faceva fare queste corse a toccare le righe nel campo. Bisogna portare… C'era anche chi faceva fare i gradoni del vecchio palazzo. Bisogna portare la testa a questo livello, dove purtroppo, perché siamo in questa situazione, adesso serve del sacrificio. Certo. In tutti i punti. Sai, l'impressione che ho io, Betta, è che la squadra che oggi ha in mano Meo Sacchetti non rispecchia per niente la sua filosofia di gioco. È una squadra che, secondo il gioco di Meo Sacchetti, deve tirarne in dieci secondi. E noi nei primi dieci secondi dell'azione non riusciamo a arrivare mai là dove siamo. A volte Cinciarini cerca di accelerare, però il più delle volte veramente fatichiamo in questo gioco. È una filosofia che Sacchetti ha sempre avuto anche in nazionale, è fare un punto più degli avversari. Lui anche in conferenza stampa ha detto, io voglio vincere 100 a 98 e non 60 a 58. Però la nostra squadra, nelle ultime sei partite, ieri ho guardato la media punti, segna la media di 72. Quindi è difficile vincere le partite in attacco segnando 72 punti di media. Cioè non ha probabilmente questa squadra il talento necessario per giocare il basket che Meo vorrebbe. Sì, non ha nemmeno i realizzatori. Poi, sai, arriva una squadra che è in corsa, ha cambiato l'asse play pivot. Certo. Che è un asse fondamentale che evidentemente non era stato impostato in modo corretto. Abbiamo visto Schilling, abbiamo visto McCallum che è uno che... Forse adesso McCallum con Meo magari avrebbe potuto giocare meglio. Forse un po' di più, forse un po' di più. Un po' di più reattivo. Però con Buscaglia è uno che pompava il pallone, 15 secondi, 20 secondi. L'accelazione non cominciava mai. Quindi non so se sarebbe piaciuto. Pompava il pallone perché guardava soprattutto il gioco suo prima di guardare con gli altri. Infatti quando attaccava il perro spesso arrivava in fondo. Infatti io McCallum forse ancora qualche settimana probabilmente l'avrei anche tenuto sinceramente. Non era esattamente un playmaker. Lo è molto di più Cincia. Magari col Cincia avrebbe giocato bene. Cincia e McCallum, perché no? Chissà. Va bene, Giovanni vuoi già intervenire? Iniziamo subito. Mi ringrazio a quello che ha detto Michele. Una squadra purtroppo costruita male, aggiustata forse peggio, ci dice Marco, che saluta molto Peppe, il suo compagno di posto alla Vite Frigo Arena. Una svolta che purtroppo il gioco di Meo non coincide con questi giocatori non adatti al suo gioco. Quello di cui parlavamo, quindi forse non c'è nemmeno bisogno di commentare. Grazie Marco per questa sottolineatura. Infatti in settimana è arrivato McDuffie, che è un giocatore sacchettiano. Adesso ne parliamo, anzi, guardiamo un attimo le foto che Andrea ha sistemato per farci vedere questo nuovo giocatore, che ha proprio il fisico giusto per Meo. Il resto del Carlino lo ha descritto con una definizione, secondo me... Se lo guardi bene in questa foto è Juman Jones, è sparato. La definizione del Carlino, del mio collega di Gennaro, che lo voglio citare perché ha descritto proprio bene, un violino che suona nel deserto. A te è piaciuto McDuffie? Riuscirà a cambiare un po' il volto di questa VL, Michele? A me è piaciuto, è piaciuto perché è un giocatore che attacca il ferro, qui fa un cappin bellissimo, è un giocatore che ha un buon tiro, ha una buona predisposizione per l'attacco. E anche in difesa ogni tanto si fa sentire. Secondo me McDuffie è un buon innesto, è un buon innesto. Però quando ci sono tanti giocatori che faticano, metterne uno non è detto che risolvi la situazione. Soprattutto se non è un play. Di solito, per me, un giocatore solo per cambiare una squadra può essere solo il playmaker, secondo me. Assolutamente, sono d'accordo. E Cincia si impegna in questo, cerca di fare il massimo. Ad esempio, Domenica ha scaricato due palloni per Tambone, meraviglioso, gli ha lasciato il 5 metri di vantaggio, però Tambo ha preso due all'alti in ferro. Ed eravamo a meno 4, lì poteva cambiare la partita. Lì cambiava la partita completamente. Senti Peppe, molti ritengono che a questa squadra servisse più una guardia, con tanti punti nelle mani, ma il rientro di Bamford ha spinto verso un altro ruolo. Quindi è arrivato un ala forte. A tuo parere, ecco, proprio di questo parlavano, incide di meno sul gioco di una squadra rispetto a un esterno. Bamford non è male, è un buonissimo giocatore. È che oramai lo conoscono. Lo stanno addosso, lui non è velocissimo. Non ha questa partenza 1-2 che o tira o lascia l'uomo lì. E quindi riescono adesso a condizionarlo molto. Ma è tutto, secondo me, un insieme globale. Se tutte le piedine prendono un po' più di voglia, di concentrazione, di ottimismo, secondo me ancora possiamo uscire. Perché, voglio dire, non è che erano bravi ottobre e sono sommari adesso. Diciamo che un insieme di cose ha fatto sì che è calato un po' il castello. Un po' la preparazione fisica, un po' la preparazione mentale, i cambi degli allenatori, dove uno giocava in un modo, questo ovviamente più libertino, più pimpante, più veloce, che un po', diciamo, dovrebbe seguire questa squadra. Perché non essendo una squadra così d'impatto, dura, fisicamente, deve correre, deve essere veloce. Quindi rimbalzi e via e tirare, come diceva, nei 7, 8, 10 secondi, se vogliamo alzare la media punti. Giovanni, hai ancora... Allora, iniziamo subito. Alessandro Rocchi. Ciao Michele, a tuo parere è stata azzeccata la scelta di portare a casa Cinciarini, affidandoli quindi una regia della squadra e coach Sacchetti per puntare alla salvezza con la sua filosofia di gioco? Secondo me, sì, Cinciarini è arrivato a Pesaro con tanta voglia di fare, si è chiesto dall'inizio della stagione perché McCallum in questo faticava di mettere in ritmo i giocatori. Lui è il record man italiano di assist, l'anno scorso ha fatto un record in partita di assist, 22-23, una cosa enorme, ed era proprio quello che mancava. In più, la pesaresità, Cinciarini riesce anche a gasare il pubblico nei momenti buoni, e è chiaro che la carta identità non lo aiuta, per lui mette il 100%, secondo me come scelta è stata azzeccata, io ricordo quanto è stato annunciato, tutti i social, il grande Cinciarini, secondo me è una scelta sicuramente buona, non sarebbe male magari che Tamboni gli dia una mano un po' di più in regia, però giocatore di talento come Cinciarini non si può discutere, poi ovviamente si è trovato in una situazione non facile che lui cerca di gestire al meglio, però Cinciarini andava benissimo e va benissimo. Ancora Giovanni? Gli errori quindi di mercato estivo purtroppo sono evidenti, vedi ancora però nella tua classifica la VL nei playoff come dal tuo pronostico di settembre. Chi è? Michael di Pesaro. Eh sì, io l'ho messo all'ottavo posto. Sì, ma era la prima puntata. Era la prima puntata. Forza, uno se non ci crede alla prima puntata, allora è caso. Forza, poi ovviamente avevo messo in basso Pistoia, Scaffati, Cremona che stanno facendo un campionato clamoroso. Guarda un po', abbiamo le prove. Si può togliere l'immagine per cortesia? Guarda chi avevi messo, perché è anche divertente vedere uno come ha sbagliato, quindicesima Scaffati che è settima. Cioè ci sono delle squadre che l'hanno sorpreso, Pistoia è l'ultima. Cioè Pistoia che giocano in sei, perché la battuta, l'ultima vittoria è stata Pistoia, Pistoia gioca in sei. Pistoia e Cremona, gli allenatori hanno fatto un lavoro certosino, perché effettivamente loro, buoni americani, basta. Però avevo messo in alto Brescia e Venezia. Giocano in sei. Chi avrebbe messo Venezia e Brescia in testa della classifica? Brescia sì. Brescia sì, perché l'anno scorso il campionato anomalo è perché loro hanno fatto la Coppa. Infatti se tu vedi Tortona sta pagando la Coppa. Sì, è vero. Perché non è male, anche se ho degli amici di Tortona che dicono, ma no, siamo scarsi. Io gli ho detto, guarda, la Coppa la paghi. Cioè bisogna essere preparati. Non ti alleni, sei sempre in viaggio, ma anche sai 15-16 giocatori, non vuol dire il giocare i 30-20 minuti, è la spussatezza del viaggio, il non dormire. Non allenarsi. Non allenarsi, eccetera. Ma anche Trento. Che a lungo andare, si vede la stessa Bologna che effettivamente ieri sera ha fatto una figura, è vero che gli manca Senghieglia, ma è così Milano. Cioè voglio dire, ecco, sono due squadre che queste, forti. Poi quando si gioca due volte a settimana in Eurolega, in campionato, si possono fare delle figuracce. È massacrante. Se tu giochi martedì e giovedì, oppure mercoledì e venerdì, come fai a giocare domenica? Magari in trasferta. È normale che poi puoi perdere una partita anche inaspettata, no? Perché hai speso tanto per... Sì, l'Eurolega è veramente massacrante. Sì, secondo me dovrebbero cambiare qualcosa, così non va bene. Cioè magari meno partite, voglio dire, no? Anche perché poi ci perde il gioco. Io ho visto le partite ieri sera, veramente erano inguardabili. Sia con il Barcellona, sia con Milano. Ma anche perché poi la regolarità del campionato... Cioè se tu incontri Milano in una settimana in cui ha giocato una partita sola di Eurolega, sicuramente le prendi. Ma invece se ne ha giocate due, magari vinci. E quei due punti lì valgono poi sulla classe, pesano. Quindi secondo me un po' di condizionamento da questo punto di vista c'è. E Brescia adesso si vede che una squadra sta giocando, gioca bene, si trovano, c'è l'equilibrio, sia uomo che... Cioè la vedi, che fanno una partita alla settimana, purtroppo. E anche una squadra che da almeno tre anni ha lo zoccolo duro che giocano sempre quelli là, insomma. Molti, ne hanno confermati credo sette, sette giocatori. E quello vuol dire molto, perché poi l'Unione... Anche Pesaro era così, perché il gruppo degli italiani dopo tanti anni è rimasto integro ed è rimasto forte, si è visto all'inizio del campionato. Io non dimentico le vittorie a Milano, la vittoria con Tortona. Cioè voglio dire, era una squadra che giocava e si faceva rispettare. Deve essere successo qualcosa, perché poi dopo la vittoria con Pistoia... Si è squagliata. Si è scomparso quasi tutto e ci ha lasciato un po' tutti a bocca aperta, perché amiamo tutti la VL. Sembrava la risalita da lì. Che fosse poi la prima partita di Cinciarini che va in curva a esultare con i tifosi. Bellissimo. E invece, puntini, puntini, puntini. Siamo caduti. Allora, continuo con Claudia Ortolani. Buonasera a tutti, buonasera a tutti voi in studio. Buonasera al grande Zavagnini. Ora chiedo al grande Michele se le gerarchie mai esistite, forse da fin da inizio anno, possono aver fatto confusione? Perché comunque il gruppo è stato cambiato, prima da Buscaglia, poi da Sacchetti. Un po' confusione anche da parte di Tambo Capitano, fuori Mazzorra titolare, in Panchina Forte, che poi si è risvegliato questa domenica. Si spengono purtroppo gli italiani nell'ultima partita. Un buon Maretto, ma ora si parla di Tambone, che ce lo chiede anche la signora Patrizia Patrignani, di una partenza, una offerta arrivata per Trapani. Allora, aspetta. Questo voglio rispondere subito. Ragazzi, non bisogna fare confusione tra la partenza o un'offerta ricevuta, non sono la stessa cosa. Cioè, Trapani può fare tutte le offerte che vuole, ma se Tambone vuole rimanere a Pesaro non va da nessuna parte. Poi il capitano. Oppure se la VL non vuole cederlo non va da nessuna parte. Se invece ha questa offerta, che è sicuro che è arrivata, perché Trapani ha un presidente ricchissimo che vuole tornare in Serie A, e so che già quest'estate aveva fatto una proposta molto importante a Tambo, che non ha accettato, sono tornati alla carica, però il fatto che Trapani sia tornata la carica non vuol dire nulla. Dipende tutto da Pesaro. Cosa decide di fare? Se vuole cedere il giocatore oppure se il giocatore vuole andare via. Quindi non confondiamo le due cose. Un'offerta di mercato non significa automaticamente una partenza. Anche perché, avete, le offerte vengono fatte costantemente, voglio dire, per cui... E invece la domanda iniziale mi piace molto. Parla di leadership, che evidentemente in questa squadra non si è costituita ancora. Si vede che manca un leader, uno di quelli che trascina il gruppo, ci sta provando Cinciarini, però ancora non è il leader che dovrebbe essere. E poi per trovare un leader bisogna che le cose vadano bene. Quanto va tutte bene, il leader, ce ne possono essere anche dieci. Però un problema di leadership lo noto anch'io, l'abbiamo chiesto anche domenica a fine partita a Meo Sacchetti, e lui ha detto ricominciamo a vincere, poi il leader viene fuori. Tra l'altro andiamoci a vedere le percentuali di Cinciarini, vi invito a farlo, invito anche i tifosi. Non tirava mica così male da tre punti, quando giocava a Milano e a Reggio Emilia. Quindi chi mi dice ancora, ma Cinciarini ha la mano quadra, ma stiamo scherzando, assolutamente no. Sicuramente non è un tiratore, ma non ha mai tirato con queste percentuali. No, forse a volte si carica anche di situazioni. Anzi, io quando veniva a Pesaro, mi ricordo sempre che il tiretto velenoso... Sì, lo faceva sempre. Lui al momento adesso si sente anche di dire, vabbè, provo, perché vede che... prova delle soluzioni che chiaramente non vengono. Beh, si prende anche delle responsabilità. Io mi ricordo Cincia Montegranaro, era uno che faceva punti anche parecchi. Adesso lì andiamo indietro molto. Andiamo, sì. Però il tiro, se ce l'hai, ce l'hai, no? Adesso non è un tiro proprio bellissimo, un po' basso, parte dal basso. Un po' basso, un po' con la spalla. Ma anche con Milano faceva canestro, Cantù faceva canestro, quindi voglio dire, non è uno che dice, vabbè, ha fatto una stagione meteore, eccetera. Ricordiamo che, ricordiamo Cinciarini in finale con Sassari, trascinò Reggemia la finale, praticamente da solo. Non dimentichiamo questa cosa qua. E questo è il famoso equilibrio che non c'è, perché quando tu non fai la preparazione e quindi ti conosci singolarmente con chi giochi, come devi passarti la palla e trovare il feeling, adesso non c'è, perché cambiamenti, gli americani, gli allenatori... Infatti, Cincia mi aveva raccontato che lui... Ci vogliono due o tre mesi per mettere un equilibrio in un quintetto. E lui durante il ritiro si studiava i video dei suoi compagni per capire dove e come servirgli la palla e questo qui ha portato lui a far fare punti facili. Per esempio, lui aveva una grande intesa con Olisevicius che adesso gioca a Treviso. A Reggemiglia. A Reggemiglia, eh. A Reggemiglia giocavano insieme, no? Ecco, ci sono certi giocatori che ancora, secondo me, lui non ha capito dove serviva. Per esempio, uno come Bluiet, che secondo me potrebbe fare 20 punti tutte le sere, per il tiro che ha. Al tiro è sicuramente più bello della squadra, no? Un tiro di seta, morbido. Sì. Però non sarà sempre il ritardo. Se è libero, se lui è l'uomo addosso, non guarda neanche il canestro. E non prova neanche a fare un palleggio. È lì che dico, ma sto giocatore è molto limitato. Poi, se è libero, è chiaro. Se è in striscia, poi non lo fermi. Però le altre squadre li liberano i giocatori per tirare. Noi prendiamo un sacco di piazzati con i piedi per terra, quindi mi chiedo perché noi non riusciamo a mettere i nostri giocatori in quella condizione. Certo, assolutamente. Un po' un difetto di Bluiet che secondo me attacca poco il ferro. E un tre dovrebbe essere più pericoloso da questo punto di vista perché poi il tiro da sei metri ha percentuali molto più basse mentre se vai dentro tiri da mezzo metro è più facile segnare. Certo. ha fatto Scafati però le parliamo dopo di Scafati in 36 ore subito a prendere un nuovo giocatore e a metterlo subito nel roster. Era qui. Era facile. Pistoia l'ha liberato. Ragazzi, bisogna avere anche un pizzico di fortuna. Anche un pizzico di fortuna. Poi Longobardi è un vulcanico perché è il presidente di Scafati. Cioè, non è andato a prenderlo in America e poi ha dovuto fargli il visto. Tutto molto più facile. una che Pistoia rientrando Varnado ha deciso il contratto di Blakes era a gettone e quindi si è liberato proprio oggi Scafati ha saputo che Logan si ritirava. Poi lì, Bette essendoci il padre presidente padrone è tutto molto più facile fai il bonifico e quello ti arriva. A Pesaro col consorzio Pesaro Basket come ha detto qualche giorno fa a Rio Costa è un attimino bisogna sentire tutti vedere come fare vedere chi li mette per cui non può essere una decisione immediata. di Fatti McDuff è arrivato dopo un po' di giorni anche perché era in America ma soprattutto perché non si era deciso se prendere come prendere chi prendere. Si è cambiato idea come dicevamo prima si era alla ricerca di una guardia. Nelle società come Scafati dove c'è il presidente padrone padre che fa tutto decide anche il colore dei calzetti è tutto molto più facile perché diventa più immediato. Certamente bisogna anche avere la disponibilità economica perché come dire è andato via Logan ok c'è un giocatore libero lo prendiamo sì, finito. che poi Logan è questa cosa stranissima questa scelta di vita che prima ha detto che andava via con un whatsapp comunicato parliamo adesso ecco bravo Andrea che hai messo ecco questo è il post dove lui dice a questo punto della mia carriera penso di aver fatto qualsiasi cosa che potevo in un campo o nel gioco del basket voglio ringraziare mia moglie e i miei figli per avermi supportato anche la gente questi anni ringrazio il mio agente e ogni squadra con cui ho giocato di cui ho fatto parte in questi anni spesso quando pensi a qualcosa che finisce sei all'inizio di qualcos'altro mi ritiro dal gioco che amo David Logan questo è apparso oggi sulla pagina del suo agente quindi finalmente si è sciolto il mistero non è né scappato perché non lo pagavano né ha ritirato tra parte l'età però è anomala questa cosa ritirarsi a febbraio cioè voglio dire no no deve essere successo anche qualcos'altro all'inizio all'inizio si era sparsa la voce che era un'esigenza della moglie non so se erano dei problemi di qualche tipo familiare non andiamo a indagare però si è abbastanza aromantica anche la lettera ma sembra quella di Kobe Bryant quando ha smesso di giocare mancava solo che dicesse Logan out e faceva cadere il micro però quello che non è chiaro è se tu vuoi ritirarti puoi parlarne con la tua società si non vai via con un whatsapp questo è sicuro cioè sicuramente c'è stato qualche screzzo qualcosa che non gli è piaciuto e che lui aveva già detto che questo era il suo ultimo anno però evidentemente era talmente stufo che ha deciso di chiudere la prima si è arrivato al limite dove scatta quella molla e dice basta 41 anni già compiuti però era un giocatore ancora micidiale noi infatti siamo solo contenti perché non c'è domenica arriva Blake's che non è Logan però è un giocatore sicuramente interessante era meglio che non ci fosse nessuno che è Logan ricordiamo che tra l'altro quando abbiamo giocato a Pistoia ne parlavamo prima con Giovanni la rimonta di Pistoia perché Pesaro aveva dominato quella partita poi a un certo punto si è fatta recuperare mi pare 16-17 e lui che fino a quel momento era stato abbastanza silente è stato l'uomo della rimonta quindi un giocatore un po' pasticcione mi era sembrato però alla fine insomma aveva portato la legna l'aveva portata a casa ecco e contro il Ciaran Populus questo? esatto questo è Jerry Blake's bene continuo con le domande un carissimo saluto a Peppe Pozzoni complimenti per la tua analisi perfetta che stai facendo ci vediamo all'Atletic Club questo ci scrive Gigi63 beh questo poteva anche farti la telefonata questi sono tutti i tuoi amici Michi guarda ti dico questa cosa sono 15 minuti che sta squillando il telefono in continuazione quindi se volete chiamare purtroppo io non posso rispondere però aspetto i messaggi 15 minuti che chiamano stop alle telefonate stop al televoto allora non dovete telefonare perché non possiamo rispondervi scrivete i messaggi Whatsapp ok ad Elisabetta perché oggi è iscritto ci chiede Paolo sul Carlino di Mokivicius che è un giocatore statico quando purtroppo ha sempre giocato poco o per niente e considerando che anni fa non era come dici purtroppo sono passati un po' di anni ragazzi i giocatori cambiano anche nel corso degli anni non è uguale avere 23 anni e averne 29 adesso io non mi ricordo esattamente quanti anni sono passati ma mi pare poi è venuto qua nel 2016 quindi purtroppo poi lo può dire Peppe insomma non è la stessa cosa avere 8 anni di più sulle gambe a me è sembrato un po' più piantato ma non l'altro giorno che non ha giocato ovviamente ma nelle partite in cui è stato utilizzato l'ho visto un po' più lento un po' meno reattivo un po' più statico io ripeto li ho visti tutti più lenti quindi secondo me sono a fondo di preparazione al di là che poi è una cosa che subentra dopo il discorso mentale perché le gambe non ti vengono dietro e quindi ovviamente ti impassi la mente ma secondo me sono andate un po' giù e quindi c'è qualcosa lì che forse col cambio degli allenatori eccetera che non hanno approfondito per portare la reattività giusta che adesso non c'è io però questo lo voglio dire perché non perché voglio fare io l'allenatrice della VL però lo chiedo a voi vi ribalto la domanda cioè ok quando arriva una formazione che decide di giocare piccola tra virgolette come ha fatto Brindisi domenica perché aveva appena tagliato Wawan Johnson e quindi senza lungo hanno deciso c'era Eric Lombardi che giocava sotto quindi allora sa che ti sia adeguato cioè dice giocano piccoli allora giochiamo piccoli anche noi al massimo faccio giocare totè e poi nemmeno più totè Mokevicius oggi non è adatto a questo avversario ma perché invece non provare a imporre te il tuo gioco cioè gli altri sono senza pivot e io faccio giocare il centro e vedo cosa succede perché è un classico di molti allenatori giocare allo specchio cioè in base a quello che fanno gli altri vedi spesso uno toglie il pivot l'altra squadra subito toglie il pivot che non ha un grandissimo senso io però tornerei su Mokevicius lui era il re del pick and roll è sempre stato il re del pick and roll che né Buscaglia né Sacchetti fanno è vero per cui lui si trova veramente con un gioco che non riesce a fare lui spesso taglia portablocco cioè sarebbero perfetti insieme ma non li fanno giocare mai insieme lui spesso arriva su picca sul giocatore di Cinciarini poi fa la scivolata verso canestro sta lì che gli manca solo le bandiere le bandiere il giubbottino della protezione civile ma non lo guardano e non gli arriva niente per cui è un problema perché devi sfruttare al massimo le caratteristiche di un giocatore io capisco che difensivamente Mokevicius avrebbe fatto fatica a correre dietro ai giocatori di Brindisi domenica perché giocavano veramente piccoli con un quintetto ridotto di stazza però in attacco poteva farsi valere perché non perché ne io dico quello perché ne fallo giocare 5 minuti un minuto prova infatti ci guardavano tutti nella faccia increduli increduli e tutti abbiamo pensato ma starà male poi magari si perdeva lo stesso però quando va male si provano tutte no Peppe assoluto lui molto probabilmente ha visto gli americani un po' in crescita con una falsa che potevano e quindi li ha lasciati di più in campo cercando di cambiare di più sulle il davanti è cambiato secondo me parecchi quintetti anche eccessivamente perché cercava di trovare la matassa per poter reagire non l'ha trovata ma a volte gli devi dare anche il tempo a questi ragazzi di potersi amalgamare per poter avere una contro risposta lui in un certo momento ha fatto tre o quattro quintetti nell'arco di due o tre minuti forse anche meno infatti Peppe in conferenza stampa pre partita venerdì scorso ha detto a questo punto con Maretto che entra costantemente nella rotazione anche troppi giocatori e infatti Maretto è già scomparso Maretto è scomparso come sappiamo Stazionelli è andato in serie B che erano comunque due possibilità Maretto a me piace molto tra l'altro un ragazzo io tante volte a Buscaglia ho detto a questi ragazzi mi fai giocare perché secondo me sono buoni possono essere utilizzati in alcune circostanze il problema il problema è che c'è qualcosa che non quadra dovrà la VL risolverla in qualche modo non è precluso secondo me anche un ulteriore innesto ma questa ovviamente è una cosa che dovrà decidere la società una guardia ci potrebbe servire sicuro forse nella sosta perché adesso comunque a Scaffati si va così e poi manca la partita di Varese della domenica successiva poi il campionato si ferma per ben tre settimane per la final eight di Torino poi la nazionale poi avremo qui Brescia si e poi si ricomincia il 3 marzo con Brescia però ecco questo è un periodo in cui Sacchetti può lavorare su questo gruppo noi dobbiamo portare via due punti o a Scaffati o a Varese per tamponare un attimo e abbiamo 15 giorni per poter impostare e lavorare sia di fisico che di test e arrivare pronti per il rush finale perché secondo me dobbiamo 5 partite bisogna vincerle ancora minimo io penso in questo momento sembra quasi impossibile se pensi come sta giocando una squadra io penso di no 5 partite io veramente guarda non sono male secondo me questi ragazzi secondo me bisogna impostarli secondo me bisogna dargli fiducia secondo me bisogna allenarli e dire cosa devono fare perché così non sanno cosa devono fare questo è il mio pensiero secondo me tu questa cosa che stai dicendo tante volte allenarli secondo me va tradotta come sfruttare di ognuno le caratteristiche che ha al massimo ma secondo me non hanno un'impostazione in difesa non c'è un gruppo non c'è un gruppo omogeneo che lavora tutti insieme per ottenere l'ho visto a tratti contro Sassari con la zona lì c'è stato un certo equilibrio che si muovevano e riuscivano a chiudere bene a uomo no a uomo vedo uno là uno là uno attaccato magari gli passa dietro vanno a tirare cioè delle robe che dico neanche poi a uomo soffriamo quasi tutti gli avversari a uomo soffriamo quasi tutti gli avversari la zona però bisogna prepararla perché bisogna prepararla adesso io ho accennato la zona ho visto lì trasparente ho visto contro Sassari che lì tutti comunque erano concentrati e facevano il loro abbiamo sì però c'era Buscaglia ancora c'era Buscaglia addirittura Ford che ruba palla al playmaker ti ricordi io voglio dire sono rimasto basito quando a tre minuti era zona loro erano in pane sono ripassati a uomo perché dico ma hai un giochino che funziona ecco lì dico ma no ma dai tu avresti finito la partita a zona perché loro erano in difficoltà erano di fare sotto non riuscivano andare e non facevano anche a nessuno da fuori quindi cioè io non ho capito molto io sono a sedere lì ci sono cinque allenatori mi sembra mi sembra che con Varese e Betta correggimi c'era ancora Buscaglia ecco Mennio non esploda nell'ultimo quarto fa 18 punti nell'ultimo quarto prima l'aveva tenuto molto bene Visconti sì poi ci ha messo il tambone che non riusciva a tenerlo gli ha fatto 5-6 canestri e ha preso una schiacciata in faccia secondo me ecco sono degli errorini che poi alla fine ti vogliono dire la partita perché con Varese eravamo in vantaggio ma anche perché quella partita lì siccome si veniva dalla vittoria di Pistoia se tu avessi portato a casa la vittoria con Varese probabilmente la stagione sarebbe girata assolutamente che facevi due vittorie consecutive con un diretto avversario cioè cambiato che non era difficile portarla eravamo avanti con Varese prima degli atti di follia di Benio che fra l'altro sembrava Michael Jordan la partita era pesarese cioè si era incanalata bene sentite dobbiamo aprire una pagina dedicata ai tifosi perché la sofferenza della gente che viene al palazzo anche domenica 5.600 persone io non veramente non so più cosa dire più la squadra perde e più la gente viene a vedere la partita sono positivamente sorpresa da questa cosa e Michele fuori dagli spogliatoi domenica sera c'è stata una contestazione furiosa contro tutto e tutti giocatori allenatori dirigenti un pubblico appunto che sta portando oltre 5.000 spettatori ha perso la pazienza tu conosci tanta gente che segue il basket quali sono gli umori diciamo gli umori sono abbastanza evidenti frustrazione delusione io sono uscito dal palazzo dello sport tre quarti d'ora dopo la partita forse anche un'ora e faceva contrasto queste due situazioni c'era il pullman di Brindisi con fuori tutti i tifosi di Brindisi che brindavano festeggiavano con i loro giocatori poi giro la curva e c'erano tutti i tifosi di Pesaro che aspettavano dirigenti e giocatori e quant'altro della VL questo mi ha fatto ovviamente un dolore quasi fisico perché so con quanta passione i ragazzi dell'inferno io li chiamo ancora inferno bianco rosso poi si chiama in mille modi il terrazzino come volete voi con quanta passione questi ragazzi seguono la squadra anche andando da un capo all'altro dell'Italia e loro ovviamente sono quelli che esternano in modo più evidente abbandonano la curva scrivono sui social fanno gli striscioni perché ne soffrono in modo più evidente però secondo me ci sono anche tutti gli altri ci sono tutti gli altri 6.000 secondo me soffrono tutti perché poi andare a uscire a testa china da un impianto così bello quando la tua squadra del cuore perde è doloroso quasi ti dicevo quasi fisicamente è brutto i tifosi a Pesaro ti spingono se lo meriti evidentemente avvertono che questa squadra forse non sta dando tutto anche tu hai questa sensazione poi quanto conta l'atteggiamento del pubblico l'atteggiamento in campo lo vedono lo vedo e quindi ovviamente questo ti porta è chiaro che quando le cose vanno male vanno male ma io dico che voglio dire sì siamo lì tutti soffriamo ma non penso che la dirigenza ride che Ario, Poretto Walter e tutto il resto ci stanno mettendo l'anima perché tutti penso ci tengono e ci teniamo da uscire da questa situazione secondo me dobbiamo stare uniti anche il pubblico adesso chiaramente la critica fa poco è stata fatta serviva non serviva benissimo secondo me adesso è l'umiltà e andare e essere positivi tutti uniti da pubblico dirigenza e giocatori mettersi lì capire cosa bisogna fare e a testa bassa seguire quella strada secondo me ne veniamo fuori ma tu che sei stato un giocatore se dagli spalti ti arrivano i fischi o ti dicono andate a lavorare o altre cose ti dà fastidio ti reagisci ti deprimi cosa succede? io quando entro in campo entro ma penso che tutti entrano per dare il meglio poi puoi sbagliare puoi sbagliare un tiro i fondamentali ci sono se gioco in Serie A perché hai le basi per giocare in Serie A è questione di testa adesso mentalmente non ci siamo fisicamente non ci siamo per me i giocatori sono buoni perché erano buoni a ottobre sono ancora buoni secondo me ci vuole l'umiltà di dire dobbiamo prendere una strada indicare quella strada e tutti la devono perseguire e solo così si esce perché se no ci sarà quello che un minuto non gioco uno che esce col muso l'altro che ha preso una botta ma è così non risolviamo niente le espressioni facciali non aiutano perché da fuori la gente capisce che dentro la squadra c'è scontentezza ma io parlo anche ai giocatori perché sono loro che il prossimo anno devono rigiocare peso questi van via non van via però l'orgoglio che io sono a peso lo devo far vedere che non sono quello e quindi umilmente mi metto giù a tutti mettiamoci giù per cercare di uscire non ci riusciamo abbiamo dato tutto la gente lo capisce questo non capisce la situazione di domenica che tu entri e prendi 10-12 punti senza reagire senza ecco allora la gente critica critica ovviamente non può prendere con la dirigenza però voglio dire critica Sacchetti ha detto una cosa molto interessante quando è arrivato ha detto che una squadra è unita cioè se una squadra è unita si vede dalla panchina cioè se la panchina esulta incita se quando escono i giocatori si scambiano un 5 convinto se quando uno esce non mugugna cioè ecco il coinvolgimento di chi è in panchina in quel momento fa capire se una squadra sta lottando insieme sta arremando bene ad esempio fin quando eravamo in partita c'era questo coinvolgimento però c'è una foto bellissima che è uscita lunedì dalla panchina dove c'è Visconti che quasi piange Mazzola con le mani nella testa Tambone che guarda nel vuoto cioè è un momento che viene sofferto molto anche dai giocatori secondo me un ruolo fondamentale è la società nella società ci sono due campioni come Magnifico e Costa che secondo me potrebbero avere in questo momento un ruolo molto importante di chiamare la squadra sono convinto che una parola loro serve una parola di esperienza è un giocatore però è stato un giocatore è l'allenatore certo certo quindi io dico adesso le polemiche non servono allora Giovanni se hai ancora domande veramente tante domande rinizio subito un attimo ci saluta Tiziana da Ponterio di Stacciola e ci dice domenica sarà difficile ma secondo me è un 67 a 77 per la VL il tuo pronostico Tiziana ci fa piacere però ti ricordo che dopo Pistoia non ci abbiamo più preso speriamo questa volta io me lo sono segnato comunque me lo segno sempre un'altra domanda ci arriva da Andrea buonasera a tutti vorrei sapere perché secondo me Totè è un po' arrabbiato con il mondo sta passando un momento che sicuramente non è a suo favore beh perché non gli riescono bene le cose che gli riuscivano splendidamente fino a novembre ragazzi ricordiamoci lui fino a novembre era nettamente e lo ancora il miglior marcatore italiano aveva 17 punti e 6 rimbazi ai partiti che sono numeri molto importanti io ricordo pagine della gazzetta del Corriere dello Sport scritte su di lui tutti i social non social siti specialistici tutti lo davano come di sicuro il futuro pivot della nazionale convocazione in azzurro sicura infatti non c'è convocazione in azzurro dopo lui è uno che un po' tende a innervosirsi l'hanno cominciato a menare perché l'hanno cominciato fuori dai denti soprattutto a provocare perché lui ha raccontato che non regge nelle provocazioni si 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 infatti lo conosco si effettivamente e qui lui dovrebbe migliorare qui si deve maturare da quel punto di vista lì poi non sopporta certi fischi degli arbitri poi dopo comincia a parlare con gli arbitri gli avversari gli dico fanno trash talking gli dicono qualche parola in più te lo senti ultimamente anche qualcuno del parterre ha delle parole non d'amore dolcissime nei confronti di Totè e lui queste cose le soffre le soffre va fuori di testa dopo in campo fa quello che è successo contro Brindisi che ha fatto 3-4 azioni che non si capiva cosa voleva fare insomma perché non aveva la testa lì non aveva la testa lì perché quelle cose lì fino a novembre le faceva alla perfezione cioè uno non è che disimpara di giocare vuol dire che non ha più la concentrazione necessaria per fare bene le cose che sa fare che secondo me sono tante perché Totè secondo me è bravo e sinceramente la non convocazione lo so che Peppe non è d'accordo la non convocazione nazionale secondo me non ha senso se non altro per premiare uno che migliora eccolo qua è convocato non ho capito perché stai messe fa sono messe convocazioni vedele così sono tutti a metà al posto di chi l'avresti chiamato Michele? è facile guarda Caruso anche perché se uno gioca se uno gioca un minuto e mezzo rotte agli asciugamani voglio di chiamare al posto di Polonato Polonaro non di Caruso ma Polonaro è un 4 3-4 però Polonaro lui gioca a 4 fondamentalmente lui gioca parte dalla lunetta e va dentro se tu gli dai le palle schiaccia o si fa i movimenti sotto lui non parte pivot tutto è un 4 per te? per me è un 4 4 a mezzo se tu chiedi Leonardo quando è venuto qui ha detto che lui nelle giovanili e in A2 giocava a 4 e adesso lui non ha i movimenti spalacanestro lui ha i movimenti fronte canestro gli piace di più lui si muove in movimento fronte canestro gli piace di più ha questo movimento che si gira ma c'ha solo quello non ha il passetiro non ha il gancio non ha il scivolamento sotto canestro e poi è Mancino io all'inizio del campionato non ho visto far molti è Mancino quello è il problema adesso tutti poi lui è veloce è un 4 veloce se lui imparasse a buttare la palla e andare dentro per quello che sognavamo tutti di vederlo insieme a Mokevicius lui da 4 e Mokevicius da 5 non ci hanno dato la soddisfazione non ci hanno dato retta neanche un minuto una volta che lo fanno faccio invasione di campo non mi hanno dato soddisfazione continuiamo Zava tu che sei a bordo campo non ritieni che la squadra abbia poco carisma Mauro da Serra Ungarina Mauro più che questo probabilmente va bene probabilmente lo conosco non è questione di carisma il carisma come dicevamo si traduce in leadership io da porto campo vedo soprattutto che dal punto di vista fisico e reattività soffriamo con tutti soprattutto nelle ultime partite arriviamo sempre ultimi sulle palle vaganti delle volte non siamo concentrati ad esempio quel tiro libero sbagliato da Flaccadori che riprende e rimbalza quello è veramente una roba che oppure la rimessa dal fondo campo di Flaccadori che fa sbattere la palla sulla schiena di Tambone la quintana scusa l'ho confuso con Flaccadori la quintana che fa sbattere il pallone sulla schiena di Tambone poi segna lì vuol dire che la concentrazione non c'è per niente allora un saluto a Marco Cadeddu grazie per Peppe ci scrive Paolo il problema secondo me è a Monte con una squadra così identica né più né meno Repesa secondo me avrebbe fatto molto meglio cosa pensi Peppe? beh sicuramente un altro carattere un altro allenatore che si impone un altro che è un allenatore che lui ti spreme e ti porta all'esaurio infatti l'anno scorso lui ha fatto benissimo due terzi di campionato sono arrivati a fine febbraio che erano quasi tutti cotti a Bologna? sì alla fortitude quindi voglio dire comunque poi un'altra presenza in campo un altro personaggio non mi piace fare dei paragoni ovviamente le cose che sono successe sono successe non per un allenatore ma per tante piccole cose che non si sono incastrate quindi è difficile non c'è un capo ispiratorio unico dove dice beh abbiamo sbagliato lì gli americani non idoni l'allenatore che forse la squadra la doveva impostare meglio il cambio all'allenatore giocatori americani italiani cioè praticamente è una porta sempre aperta dove ogni domenica non sai come giocano perché alla fine non c'è il feeling non c'è l'amalgamo non c'è l'equilibrio non c'è niente si devono conoscere purtroppo anche io non avrei visto malamente l'arrivo di Dalmonte però non abbiamo la controprova forse Dalmonte poteva essere più adatto col gruppo di giocatori che aveva in mano rispetto a quelli di Meo Sacchetti però non abbiamo la controprova e secondo me bisogna sostenere Meo fino alla fine per salvarsi devi partire dalla difesa e quindi sperare di salvarsi facendo 100 punti magari sarebbe un sogno cioè salvarsi divertendoci ma di solito per salvarsi infatti quanto Meo disse quella frase lì poi tutti sappiamo come gioca Meo da sempre ma bello il suo gioco però forse si vogliono giocatori di grande talento sai lui a Sassari vinse uno scudetto però aveva aveva i fratelli Diner aveva Logan aveva un sacco di gente che segnava tutte le posizioni qua questi qua non ci sono ha preso McDuffie che può essere un giocatore che può andare bene per il suo gioco però gli altri gli altri faticano Ford che ha avuto fiducia e abbiamo visto che è anche un buon tinatore ha un bellissimo rilascio però un giocatore totalmente incostante capace che ti fai in un quarto 10-12 punti e poi scompare non sai più manco dov'è problema allora dobbiamo affrontare il prossimo avversario perché sono già le 10-15 come sempre quando ci sono ospiti adesso diciamo facciamo una battuta alla VL non abbiamo bisogno che ci mandate nessuno ma non abbiamo bisogno perché arrivano le domande più per voi che per i giocatori tra un po' no ma perché questa sera veramente vi ringrazio perché avete portato la discussione su un binario tecnico che a volte è importante per capire come vanno le cose quindi adesso andiamo a vedere gli highlight di Scafati Treviso per capire come gioca il nostro avversario a Michele andiamo sul campo di una squadra che ha vinto 5 delle ultime 7 partite piazzandosi al settimo posto in classifica mai successo nella storia di Scafati una partita proibitiva anche senza Logan no non è proibitiva ovviamente è una partita a mio avviso giocabile tra l'altro giocano in un campo che voglio dire faticherebbero anche a fare la Serie C con queste strutture in metallo è una squadra che è stata costruita evidentemente con molto talento Logan Gerald Robinson Gamble Pinkins Gentile Gentile che sta trovando una nuova giovinezza insomma è una squadra costruita bene sta vincendo sovvertendo tutti i pronostici della vigilia però secondo me la giochiamo la giochiamo Rosato 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 che con noi fece 16 punti partita della vigilia no ma io ho visto le altre partite lui fa canestro un bel giocatore quel ragazzo lascia perdere poi tra l'altro quello che mi colpisce è una squadra che è comunque molto esperta quindi i soliti giocatori esperti una squadra esperta non è una squadra veloce quindi devi impostare qualcosa devi creare qualcosa per metterli un po' in difficoltà e cercare di colpirli più che puoi puntano molto sul tiro da tre perché se li fai correre secondo me faticano ma sono grossi sono grossi sì sono Pinckis ragazzi ha fatto una partita qui 32 mamma mia vi dico una cosa domani però se può fare adesso non sono ottimista così col più 10 come ha detto Tiziana però secondo me la giochiamo le partite sono tutte a sé sono tutte a sé non puoi dire uno la perdi uno la vinci da un pronostico che è difficile è chiaro che lì è un campo ostico è chiuso è un tendone un po' di difficoltà te ricrea il pubblico è tutto lì e ci vuole la mentalità di Usta l'anno scorso abbiamo vinto a Scaffati sì sì però è più forte quest'anno scaffati più forte volevo dire ho fatto un'intervista a Boniccioli oggi che esce domani sul resto del Carlino non per farmi pubblicità come sta Boniccioli ma perché volevo dirvi però leggetela perché per me lui è un personaggio cioè ha fatto un'intervista originale diversa fuori dal coro mi è piaciuta tantissimo ve la consiglio perché dice tante cose anche su Pesaro interessanti che potrebbero comunque colpirvi ma quella può essere pretattica no no ma non sulla squadra sull'ambiente sulle dinamiche che lui ha scoperto quando era qua che secondo me sono molto vere dette da uno che non sta qui sono più interessanti perché a volte ci vedono meglio da fuori di quanto ci vediamo noi da dentro la notazione tecnica che volevo dirvi è che io gli ho detto dimmi il segreto di Scaffati e lui dice io ho messo gentile playmaker io non ci volevo credere perché non le ho visti giocare da tutte le partite lui dice io ho dato le chiavi in mano Alessandro utilizzandolo esattamente come avevo Bodiroga quando era giovanissimo a Trieste un playmaker di due metri poi sapendo che Alessandro ha un carattere abbastanza particolare magari responsabilizzandolo gli ho dato le chiavi della squadra e lui sta giocando in maniera sublime poi lui fa il playmaker un po' alla D'Antoni molto spalle a canestro in D3 già è grosso per cui i playmaker piccoli lo soffrono ecco Cinciarini che grossino come playmaker potrebbe da questo punto di vista gentile due metri gentile ho visto passa la palla benissimo ecco questo qui mi ha detto lui ha fatto un cambiamento con la testa mentre prima era uno che volevo andare a segnare adesso lo vedo campo aperto 360 vede se deve passare secondo me secondo me Boniciolli è un visionario è arrivato alla sua maturità con tutte le varie cavolate certo è una vita che è un giocatore ha sprecato anche a parte del suo talento Boniciolli oggi ha detto io sono anni che avevo mi ero immaginato il suo percorso siccome a Udine quando è arrivato Gentile mi ha nezonarato dopo due giorni questa idea ho detto ho dovuto aspettare di ritrovarlo a Scafati ci siamo per fortuna ritrovati e sono curiosa di vedere perché è un giocatore secondo me che a un certo punto sta per buttare dalla finestra la sua carriera lui ha un talento sconfinato è una cosa di famiglia Milano ne ha rovinati molti quanti italiani ha preso gli altri vengono in mente della Valle Moraschimana Fontecchio gli ha proprio veramente fermato la carriera Fontecchio ragazzi è una roba fantastica giocava a Bologna ha mandato via a Milano l'ha mandato via NBA e nell'NBA fa ormai è nel quintetto base fisso ma al di là dell'NBA lui ha giocato a Cremona ha fatto un campionato della Madonna poi è andato in Austria in Germania in Germania campionato della Madonna quindi vuol dire la maturazione di testa di questo ragazzo all'alba se non sbaglio che aveva già il talento quindi come come gentile eccetera poi in mezze fisici per me è un ragazzo che io stravedo allora Giovanni hai ancora qualche domanda? ci ho due commenti uno da Enrico io penso che ormai purtroppo abbiamo le zavorre in squadra purtroppo Tambone e Mazzola e tutte hanno mollato purtroppo non ne hanno più speriamo di no preferiamo retrocedere con Maretto in campo che ci darà l'anima piuttosto che questi torbi vedi questo è uno che è povero sta soffrendo molto no ragazzi la botta d'ottimismo di quelle proprio abbiamo perso una partita determinante va bene ma basta dimenticarlo un attimo invece il nostro Giorgio Gennari buonasera a Betta buonasera a Peppe buonasera al mio vicino di casa Michele Zavagnini mi spiace a metterlo ma ho paura che purtroppo Cincerini per quanto sia contento che sia tornato a casa si sta rilevando un acquisto secondo me non giusto era forse un buon assist però secondo me un bel play veloce atletico che attacca il ferro ci voleva però Giorgio se ti ricordi l'esordio di Cincerini a Pistoia dove fa 12 assi cioè una partita meravigliosa e ho detto cavolo questo veramente ha aperto il cuore questo ha rimesso a posto tutti rimette in ritmo tutti poi dopo ha cambiato l'allenatore probabilmente deve ricominciare a riprendere le redini della squadra lui ha il talento per farlo e la testa l'intelligenza perché ricordiamo che il Cincia è un giocatore di grandissima intelligenza deve crescere di nuovo Banford secondo me perché domenica tutti eravamo contenti per il suo rientro ma ci siamo dimenticati che è stato fuori un mese è un giocatore di 34 anni che sta fermo un mese e ci vuole un po' tutti non su lui tutti i giocatori che stanno fuori un mese hanno bisogno di due o tre partite di rodaggio per il clima partita non riusciva a liberarsi di nessuno fa questi palleggi 28 palleggi dietro a schiena in mezzo alle gambe così e senza fare un centimetro in più e quello vuol dire che non ti senti ancora la gamba pronta per poter andare via perché Banford era 16 punti di media prima di farsi male è un giocatore che può fare benissimo e deve crescere come tutti ovviamente io penso che se lui e McDuffie crescono un po' sono sicuramente i due giocatori più talentuosi tra gli americani forse la squadra può lievitare questa è la mia speranza poi Betta se loro cominciano a fare bene cominciano a creare spazi anche per gli altri giocatori perché quando tutti faticano le difese stanno lì belle ferme sanno che nessuno viene battuto sono sereni tranquilli e te fai una fatica dell'ostia anche a fare un tiro banale hai capito se qualche giocatore comincia a segnare con condività di essere un pericolo poi gli spazi si aprono Peppe è così sì è così esatto è vero adesso purtroppo non c'è questa visione di gioco non c'è quindi fanno fatica fanno fatica perché sì se avessimo per dire Banford metteva due bombe domenica già qualcosa in più si poteva sperare perché alla fine sono mancati un paio di tiri nel momento cruciale quando siamo tornati a meno 4 lì veramente si poteva girare la partita l'inerzia sembrava passata di mano sì Tambo ha avuto la tripla del meno 1 sarebbe cambiato tutto secondo me perché loro stavano soffrendo in quel momento là bene vi faccio prendere fiato perché insomma siete stati bravissimi apriamo l'album dei ricordi siccome stasera è la sera dei lottatori perché vogliamo dare un po' di ispirazione ai nostri giocatori abbiamo portato in studio Peppe Ponzoni e l'album dei ricordi questa sera è dedicato a Mike Silvester grazie quindi a Claudio Iacchini per i suoi puntuali video su WL Pesaro History li potete trovare Mike nato a Cincinnati Ohio il 10 dicembre del 1951 qui con la Coppa Italia vinta nel 1985 tra l'altro grazie a una sua tripla decisiva contro la Ciao Crem Varese esatto è stato uno dei giocatori triple fallo sì beta tripla e fallo a 4 punti è stato uno dei giocatori simbolo della svolta in casa Scavolini arrivato a Pesaro nell'estate del 1980 insieme a Magnifico subito dopo lo spareggio Salvezza di Milano spinse la squadra verso l'alta classifica anche se non avrà la soddisfazione di vincere lo Scudetto avendo lasciato la Scavolini nel 1986 dopo aver dato tutto se stesso al club ha firmato nel 1985 come dicevamo la vittoria della prima Coppa Italia con una tripla che ribaltò il meno 14 della gara d'andata contro Varese ha scatenato risse per difendere i colori biancorossi come vediamo qua con Caserta ed il suo orgoglio personale che era smisurato soprattutto ha giocato da campione 48 ore dopo la morte in un incidente stradale del suo figlioletto Michael in un clima surreale che chi era quel giorno al Palasport non potrà mai dimenticare un vero guerriero dal talento singolare con quel tiro che lasciava partire lateralmente da dietro la testa bruttissimo da guardare ma terribilmente efficace era uscito dall'università di Dayton dove aveva giocato anche a baseball scegliendo però alla fine del college la pallacanestro approdato in Italia a Milano che gli fece ottenere la cittadinanza italiana dopo i lunghi anni a Pesaro giocò una stagione a Rimini tre alla Virtus chiudendo poi la carriera a Marsala ha avuto la soddisfazione di vincere l'argento di Mosca con la nazionale azzurra alle olimpiadi nel 1980 oltre a tre coppe delle coppe una delle quali con la Scavolini nel 1983 e tre coppe Italia appese le scarpe al chiodo ha allenato nel 92 a Dayton la sua università e nel 2000 la Cincinnati Hills Academy oggi ha 72 anni e ancora sposato con Lisa nonno felice di tre nipotini figli del secondo genito Matthew grande Mike e questa foto è con me Osacchetti asciugo le lacrime ricordo quei tempi meravigliosi un giocatore dal talento straordinario è rimasto ancora legato a molti pesaresi con i quali ha contatti costantemente Elio Giuliani ad esempio è uno insomma un personaggio strepitoso aveva un tiro quasi inguardabile ma faceva canestro quindi andava benissimo non era da portare nelle scuole basket dicono i molti che tra voi ci sono state anche delle scintille vero o no è ovvio è ovvio che in campo lo marcavi tu in allenamento lo marcavo io sì sì ma secondo me la partita è l'allenamento come tu impronti l'allenamento quindi l'aggressività la voglia eccetera poi affronti il campo certo noi eravamo così vuol dire sì sì due tre volte ci siamo anche menati ma l'avevano detta questa cosa eravamo amici fuori fuori tutto finito quindi questo è il bello ma io con Mike era difficile non menarci perché ma guarda devo dirti che fuori ero una persona squisita in campo è giusto tu devi andare in campo e devi imporre quello che sei la voglia la grinta la determinazione che vuoi poi ecco perché poi porti in campo quello che fai in settimane in allenamento esatto questo che io ripeto sempre c'è qualche allenatore che non c'è adesso che nei momenti scusami in questi momenti qui c'è un degli allenatori che dice oggi ci alleniamo senza falli cioè vale tutto fu la partita in cui Banchi ribaltò la situazione lo sai questo l'ha fatto Banchi l'ha fatto Banchi ha detto oggi vale tutto non ci sono nemmeno le righe di fondo dopo la sconfitta con Napoli che praticamente aveva quasi provocato le sue dimissioni il giorno dopo allenamento senza regole senza falli la squadra girò la stagione ma intanto purtroppo è questo è l'allenamento è lo specchio della partita come ti alleni poi va in campo se sei moscio in allenamento molto probabilmente noi non mettiamo quella grinta giusta quella determinazione quella quelle mani addosso che poi gli altri ci mettono ah ma certo quindi andiamo in difficoltà eh certo se ti alleni senza quella aggressività poi quando la trovi in partita come fai ad affrontarla anche avere le idee chiare sul da farsi io mi ricordo alcuni allenamenti con Jasmine Repese abbiamo avuto l'occasione di vederli erano dei clinic cioè ogni allenamento era un clinic dove lui fermava il gioco impostava addirittura anche la posizione del corpo del giocatore mentre difendeva su un altro giocatore cioè proprio gli spostava i piedi perché dice devi difendere così devi attaccare così devi metterti così e sono cose che poi dai e dai e dai assimili e poi si vedeva in campo perché in campo erano degli orologini difendeva molto meglio generalmente la tattica serve quindi tu dai un'impostazione come tu fai una cosa ai due all'ora e quindi imposti e poi dopo ci deve essere tutto l'equilibrio nella partita per arrivare al massimo della velocità della reattività eccetera quindi un insieme di cose da mettere a posto speriamo bene speriamo che si riesca a fare questa cosa perché ancora il campionato è lungo e secondo me nulla è perduto anche se vedo molto pessimismo nei social già dicono eh ci stiamo preparando l'importante è che non siano pessimisti i giocatori poi i tifosi poveri lasciamo lì scrivere quello che è abbastanza naturale la testa ce la facciamo a maggio adesso no assolutamente anzi dobbiamo tirarla su adesso bravo Peppe questa è la domanda spirito giusto per Peppe Giorgio da Sassoferrato Peppe ai tuoi giocatori i tempi erano veramente molto diversi più carattere più grinta come hai detto questi secondi pochi secondi fa purtroppo oggi sono cambiati è vero sono cambiati ma adesso c'è più fisicità c'è più atletismo atletismo e velocità quindi è tutto rapportato a quindi con la fisicità è tutta un'impostazione più veloce ovviamente da allora però il gioco ovviamente è quello sì comunque è vero ma la testa comunque è quella è cambiato molto il modo di giocare io vedo alcune partite degli anni 80 il playmaker rimetteva dal fondo arrivava oltre la metà senza pressing poteva anche fare una partita a burraco salutava le fidanzate in tribù adesso invece di stare adesso fai le rimesse ragazzi devi fare 28 virate per arrivare a metà campo è impressionante mi ricordo nel 74 con Jim McGregor portava giù la palla Grasselli che era uno che ci metteva 10 minuti a venire giù e nessuno gli dava fastidio nessuno gli dava fastidio quindi per dire come erano i tempi e così e quindi bisogna essere molto più strutturati adesso per affrontare una partita assolutamente va bene ragazzi abbiamo sforato di ben 10 minuti e quindi vuol dire che le cose sono andate bene e quindi ci pagherete gli straordinari dobbiamo dire chi ha vinto la sciarpa intanto la sciarpa l'ha vinta Marco che ha veramente tantissime risposte la soluzione è le presenti di Peppe Ponzoni con la maglia Scavolini sono 260 ha vinto la Coppa delle Coppe nella stagione 1983 263 ore perché tu hai detto che video sono tante 260 è stato un bel percorso per te è arrivato ricordiamo da dove tu sei Lombardo lui è Lombardo io giocavo a Viadana in Serie C a 16 anni sono venuto qui con McGregor mi ha buttato subito dentro in prima squadra siamo arrivati terzi ai nazionali giovanili a Reggio Emilia che vinse il Banco Roma secondo Milano terzo noi e vabbè poi insomma c'era quella l'inviata di tutti i giocatori eccetera che quell'anno presero e poi ti sei innamorato di Pesaro e sei rimasto a Pesaro uno dei tanti uno dei tantissimi magnifico Costa tu Benevelli quanti quanti sono rimasti qua noi mi sa che non c'è nessun altro questo gruppo però la cento pesarese 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 non l'hai ancora presa proprio la la cantina un po' pesarese penso che ormai non lo prendi più difficile sì però per fortuna non parla nemmeno con l'accento lombardo nemmeno lombardo con il dialetto come vai Peppe? no il dialetto lo so benissimo sì sì no anche perché io ho un amico marca che mi dà degli insegnamenti giornalieri però mai dire Bedagy Bedagy è un classico promosso bene ragazzi allora io vi ringrazio tantissimo perché questa sera senza ospiti ci voleva qualcuno con la vostra verve quindi speriamo anche che vi siate divertiti a casa dai comunque parlare della nostra amata WL anche quando va male ci piace lo stesso è vero? assolutamente sì poi quando vuoi bene a una squadra vuoi comunque capire cosa sta succedendo noi speriamo poi Bette i momenti difficili vanno vissuti con leggerezza secondo me perché se metti il peso sopra la pesantezza non finisci bravo e te lo dici un esperto di pesantezza no bravo guarda hai detto una cosa adesso saggissima benissimo allora io ringrazio Andrea Sabattini in regia Giovanni Zidda ai social Michele Zavagnini Peppe Ponzoni grazie a te Bette ci vediamo giovedì prossimo grazie a voi e questa volta speriamo veramente di potervi raccontare qualcosa di più bello buona serata a tutti hai visto quante novità al Conade di Montecchio ampi ambienti completamente ristrutturati dove puoi trovare la pulizia e l'igiene di sempre in ogni reparto sì bellissimo ormai è il mio punto di riferimento trovo sempre prodotti di qualità del nostro territorio molto convenienti per non parlare della grande professionalità del personale e ti ricordo che al Conade di Montecchio c'è un ampio parcheggio scoperto e coperto noi andiamo al Conade di Montecchio da più di un secolo sul territorio macchini ceramiche è sinonimo di professionalità e consulenza specializzata nella vendita di materiali edili pavimenti rivestimenti parche ceramiche ed arredo bagno delle migliori marche ogni giorno troviamo la migliore soluzione per ogni vostra esigenza la nostra disponibilità competenza e servizio non hanno prezzo Laura e Marco ti aspettano presso lo showroom a Rio Salso di Tavuglia macchini ceramiche sempre al vostro servizio qualche volta mi piace ripensare alla magia che avevano i viali del monte più mi ci perdo più mi convinco che ricordare come erano non è troppo diverso dal desiderare che rimangano così immutati ma sempre differenti pronti a rinnovarsi anzi a crescere proprio come noi cercando di trasformare il nostro presente nel futuro che vorremmo